Sconti e nuove regole per l'Atari. Sono queste le novità principali apportate alla tassa sui rifiuti nel Consiglio Comunale di martedì scorso a Roseto degli Abruzzi. In particolare è stata approvata una diversa ripartizione delle quote dovute dai contribuenti. Abbiamoci ritenuto di dare un respiro maggiore ai cittadini consentendo loro di pagare l'Atari in quattro rate e noi di avere a disposizione una parte di quell'importo spalmato da giugno a ottobre. I tagli invece interessano in particolare le famiglie nelle quali non saranno considerati per il calcolo dell'imposta i componenti che per oltre sei mesi abbiano domicilio diverso per motivi di studio o di lavoro o anziani o disabili alloggiati in case di riposo. Per i Bed and Breakfast il calcolo dell'attributo invece prende a riferimento la tariffa prevista per la categoria dei nuclei familiari pari a sei o più persone. Inoltre è stato risolto l'annoso problema relativo ai possessori di due o più appartamenti prevedendo che per le unità immobiliari a uso abitativo non locate nel corso dell'anno ma tenute interamente a disposizione o adibite a utilizzo stagionale o comunque destinate ad altro uso limitato o discontinuo nell'anno solare venga riconosciuto uno sconto del 25% sia della quota fissa sia della quota variabile. Per usufruire delle riduzioni però deve essere presentata al comune apposita istanza. Suddividendo l'ammontare complessivo in quattro rate scadenti il 28 febbraio, il 30 aprile, il 30 giugno e il 31 ottobre di ogni anno con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno.